Nuovi murali si abiliscono Vallecrosia. Sono stati colorati dai bambini della scuola primaria Andrea Doria in vari punti del centro città. I bambini hanno realizzato dei disegni che l'artista Luca Gavarini ha poi riprodotto su mure e panchine della città affinché potessero colorarli con passione e creatività. Un progetto proposto dalla scuola da diversi anni per avvicinare ragazzi all'arte e coinvolgerli in prima persona in un'attività per migliorare la città.